cortesemente e comandante può mettere dietro grazie collega collega stai facendo un video filmato bene vorrei solo dire che non riusciamo già ad accendere l'avionica 24 v 24 v 24 v 24 v 24 min e non c'è la prima e se continuiamo a tenerla acceso sta roba Stash Amps Discharge, Standby Battery Verify On, ok, proprio clear.